Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento Nella sessione di marzo Il Consiglio Provinciale ha approvato con la sola stensione di donata a Borgo Navore Una risoluzione per scongiurare la chiusura del punto nascite di Cavalese In particolare il documento impegna la Giunta al rilancio dei contatti con le regioni vicine Per chiedere per le zone più disagiate la possibilità di differenziare gli standard di sicurezza Previsti a livello nazionale Introducendo delle deroghe sulla flessibilità nell'utilizzo del personale In reperibilità Si potrà visitare fino all'11 marzo prossimo la straordinaria mostra Arte dopo il 1900 Iniziativa promossa dal Consiglio Provinciale di Trento Che compone in un'unica rassegna 48 opere di artisti trentini, sud tirolesi e nord tirolesi La selezione proveniente dalla prestigiosa collezione del mecenate e altotesino Josef Kreutzer Scomparso pochi giorni fa È un'occasione unica per apprezzare opere che spaziano dallo Jugendstil all'espressionismo Dal futurismo al cinetismo fino alla nuova oggettività senza trascurare astrazione e arte concettuale A Palazzo Trentini via Manci 27 a Trento Dal lunedì al sabato fino all'11 marzo prossimo